Siamo collegati con la sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco di Vicenza, Salvatore Turria, referente relazioni esterne. Qual è la situazione e soprattutto il bacchiglione per quanto riguarda il Ponte degli Angeli della Fusterla? Buongiorno, la situazione qua in sala operativa dei Vigili del Fuoco è abbastanza tranquilla, siamo in una fase di attesa se malauguratamente succede qualcosa di più grave, però al momento tutto è molto tranquillo. Ci sono stati dei casi che hanno richiesto il vostro intervento? Allora, dalle venti di ieri sera al momento attuale abbiamo avuto 17 interventi effettuati di cui 8 si possono ricondurre al maltempo attuale. Tra le cose che possiamo ricordare, una signora questa mattina a Bassano si è in un sottopasso e rimasta bloccata e quindi diciamo agli automobilisti che ci ascoltano dove ci sono allagamenti di sottopassi fare molta attenzione. Quindi evitarli? Evitarli, evitarli specialmente se ci sono delle indicazioni e seguire scrupolosamente le indicazioni che si vedono. E se è vietato non avventurarsi con l'autovettura perché si rimane bloccata. Questa signora è rimasta bloccata e siamo dovuti andarla a tirare fuori. Prego, prego Turria. Sì, un'altra situazione che abbiamo in corso è un'altra autovettura nel comune di Arcugnano, in località Pianezze, che a causa dell'allagamento della strada, che è una strada molto bassa, che si è completamente allagata, è andata fuori strada e da ieri sera fuori strada e oggi alla luce del giorno stiamo vedendo di recuperare questa autovettura in una zona completamente allagata. Aggiornamenti, dicevo, per quanto concerne invece il bacchiglione, il livello? Il livello in questo momento è intorno ai 4,50 m, sta calando da questa mattina, questo ci fa ben sperare per le prossime ore. Sappiamo che c'è una procedura particolare in caso di pericolo, la si trova anche in www.bacchiglione.it, stato di preallarme, ricordiamo 5 suoni della durata di 10 secondi, quindi c'è una sirena a disposizione della popolazione, stato invece di allarme un suono della durata di 60 secondi e per fine allarme due suoni della durata di 20 secondi, è così? Sì esattamente, speriamo di non dover ascoltare nessuno di questi suoni. Perfetto, grazie del collegamento. Grazie.